Di nuove strada Montesilvano sotto il palazione di via Lazio 61 di proprietà del comune di Pescara, cittadini supportati da Domenico Pettinari del Movimento Politico Pettinari per l'Abruzzo e dai consiglieri comunali di Pescara Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese con Michele Cavaliere, coordinatore Movimento Politico Pettinari per l'Abruzzo a Montesilvano, hanno raccolto 300 firme per una petizione al comune di Montesilvano per la bonifica della zona, petizione che però non ha raggiunto i risultati sperati perché, afferma Pettinari, poco o nulla è stato fatto. Sì, la novità è che siamo stati costretti e io ringrazio tanto i nostri coordinatori di area di Montesilvano, Michele Cavaliere, Donato Spagnone e Elena Di Martino a raccogliere 300 firme per far pulire un pezzettino laterale di questo palazzo. Noi abbiamo raccolto 300 firme per un problema di emergenza ambientale e dopo il deposito di queste firme al comune di Pescara e Montesilvano, che è venuto il 14 ottobre, sono venuti ieri e hanno pulito solo un pezzettino, lasciando nel completo stato di abbandono tutto l'edificio, gli altri lati dell'edificio, addirittura ci sono dei locali contatori che a mio amviso mettono anche in preoccupazione perché all'interno c'è di tutto di più, potrebbero anche nascondere droga perché ricordiamo che negli anni questo era veramente il covo della criminalità e dell'illegalità, ora questo per risolvere definitivamente il problema di questo palazzo, che è la grande bomba ecologica, è un palazzo anche a rischio, a pericolo, ci sono dei piani alti dove si vedono dei ferri sporgenti, ma non solo, anche il problema del degrado urbano, a mio avviso dovrebbe il pubblico produrre una ordinanza condigibile urgenza al fine di abbattere la struttura e ricostruirla, e si potrebbe anche mettere al servizio dell'università, qui a pochi metri c'è la Stella Maris che sta per diventare un polo tecnologicamente avanzato dell'università d'Annunzio, questo potrebbe diventare anche uno studentato, questo è l'unico modo, altrimenti potrebbe rimanere qua per altri dieci anni, io l'ho detto alle amministrazioni, ma loro pare che non vogliono ascoltarci, non solo, diciamola tutto, qui ci sono dei privati, dicono che alcune opere non si possono fare perché ci sono i privati, falso, perché le amministrazioni smentiscono loro stessi, quando poi a seguito delle nostre pressioni vengono e vengono a pulire parzialmente, ieri sono venuti a pulire, questo è un palazzo, ricordiamo, in conclusione, di proprietà del comune di Pescara, che insiste tutto il territorio di Montesilvano, quindi i due sindaci assieme devono risolvere definitivamente questa questione. Grazie.